La vecchia La vecchia La vecchia Allora la vuole Allora lui è libero Ma però Ma come vuoi? Come vuoi tu? No no dice a Roberto No parliamo di lui Che lei è attaccata molto a Roberto E cosa vuol dire Roberto è un'altra cosa Lui è un'altra cosa no? Lo vuole quel ragazzo lì Eh povera E' meglio Angelo eh? E' innamorata di Angelo quando è piccola Angelo ha quasi 90 anni adesso 90 anni ormai Ma cosa vuol dire? Anche se hanno 90 anni Noi le donne perché amo anche No 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 No